Bene, cari ragazzi e care ragazze, come al solito spero che state bene. Continuiamo questa forma di didattica a distanza. Tra pochi minuti ci vediamo con la Quintacca in videoconferenza, lo Spartello Help. Ho fatto Spartello Help nei giorni scorsi con la quarta N e terza C e vi sto vedendo bene. Continuo a caricare video, come vedete, sul canale e sulla pagina dell'esilio. Video che spero stiate guardando, seguendo, so che lo state facendo, pur non essendoci alcun obbligo. Spero vivamente che ognuno e ognuna di voi stia seguendo quello che faccio per interesse e non per obbligo, perché non c'è nessun obbligo, ma sono sicuro che lo state facendo, visto le tante domande, mail, messaggi e quant'altro mi stanno arrivando. Adesso una piccolissima pausa, volevo fare una cosa che non sto facendo da un po' di tempo, c'è qualche suggerimento di lettura. Parto dalla terza C, stiamo facendo la termodinamica, abbiamo visto un approccio un po' diverso da quello del vostro libro, partiti da un'idea statistica, la temperatura come signature, come indice di un'energia cinetica di piccoli costituenti microscopici e questa è essenzialmente l'idea che si sviluppa intorno all'Ottocento da parte di diverse persone e in particolar modo abbiamo ricordato Boltzmann. Quindi un suggerimento di lettura, un libro molto molto bello di David Lindley, Gli Atomi di Boltzmann della Boringhieri. Non so se sia facile procurarselo, un suggerimento, prima di cercarlo eventualmente su grandi distributori online, alcune librerie qua da noi stanno facendo servizi di consegna a domicilio, sono autorizzate a vendere libri con la consegna a domicilio. Ecco, potrebbe essere un bel gesto provare prima a procurarsi libri da loro, va bene? Quindi ripeto, Gli Atomi di Boltzmann di David Lindley Boringhieri. Un libro bellissimo sulla nascita delle idee della meccanica statistica e del concetto di fisica atomica legata alla termodinamica, quindi quello che stiamo proprio facendo in questo momento. Per la quartaenne, un approccio un po' diverso all'analisi, abbiamo iniziato in questi giorni l'analisi delle funzioni reali, e un approccio un po' diverso ma complementare a quello che stiamo facendo noi e lo trovate in questo libro, che è un libro bellissimo, la mia copia è rovinata a causa dell'uso, Le matematiche, bellissimo anche questo plurale, non la matematica, ma le matematiche, sono tre autori russi molto importanti, Aleksandrov, Kolmogorov e Lavrentev, e questo volume, che è l'unico prodotto in italiano, purtroppo ce ne sono anche altri in inglese, è su analisi algebra e geometria analitica, quindi c'è un'inversione nella sequenza che noi abbiamo svolto, che diciamo di solito nella scuola italiana si svolge, quindi l'analisi come ultimo punto di arrivo, in questo libro c'è un approccio completamente diverso, l'analisi come punto di partenza, è una bellissima lettura che può essere complementare a quello che stiamo facendo insieme. Infine, quinta H, stiamo guardando la dinamica relativistica, ho iniziato ieri sera, non so se l'hai visto, è un argomento un po' avanzato, un po' complesso, ma molto interessante, e non posso non consigliare questo libro, non so se sia facile ottenerlo, per cui provate a vedere magari anche in canali di libri usati, si intitola Spesta in Physics, ed è, questa è la seconda edizione, Introduction to Special Relativity, second edition, ed è di Taylor e Wheeler, che sono due giganti della relatività, anche da un punto di vista didattico, è un'introduzione veramente meravigliosa, molto geometrica, molto bella la relatività, e che in parte è quello che sto cercando, con tutti i miei limiti rispetto a questi giganti, di fare nelle lezioni che vi sto, in qualche modo, inviando. Spesta in Physics, Taylor e Wheeler. Infine, visto che è un momento di meditazione un po' per tutti e per tutte, perché non rivolgersi alla vita di persone che ci hanno preceduto, e che in qualche modo hanno lasciato traccia nella nostra cultura, nella nostra società, e quindi leggere qualche biografia o autobiografia. E partirei con questo suggerimento di Margherita Hack, qualcosa di inaspettato, della La Terza, è una bellissima autobiografia, uno spaccato di vita personale, di questa grandissima scienziata, che ha vissuto qua vicino a noi, e che ha lasciato un segno veramente profondo, in tutti quelli che l'hanno conosciuta. Bene, con questo qua chiudo questa piccola parentesi di libri, e ci vediamo tra poco per fare un po' di esercizi di relatività, con la Quinta H e con gli altri, nei prossimi giorni. Buona giornata, e state bene tutti e tutte, mi raccomando. Grazie a tutti.